Combustibile fossile? No grazie. Lo slogan che una volta veniva utilizzato per l'energia nucleare oggi potrebbe essere riadattato, per esempio contro il metanodoto della SNAM e la centrale di compressione che si vorrebbe realizzare a Sulmona, un intervento fortemente avversato dal territorio. Il progetto SNAM è definito vecchio, inutile, antieconomico e dannoso per l'ambiente dalle 12 associazioni, 10 nazionali e 2 regionali, che per cercare di bloccarlo hanno inviato una lettera all'esecutivo. Il governo sta insistendo sulla base di un progetto che risale ormai a 20 anni fa, che è un vecchio progetto che poteva avere un senso quando è stato preparato, predisposto, ma oggi non ha più alcun senso perché si può fare un metanodotto quando il consumo di gas sta diminuendo in Europa e in Italia, quando sarà necessario da qui al 2050, rinunciare del tutto alle fonti fossili e il gas è una fonte fossile e quando questo metanodotto e questa centrale andrebbero incidere su una zona altamente sismica, quindi a grosso rischio, comporterebbero il taglio durante i lavori di 5 milioni di alberi, comporterebbero danni ambientali immensi e soprattutto comporterebbero, non soprattutto, ma anche comporterebbero una spesa immensa per i cittadini perché il costo verrebbe pagato dalle bollette sul consumo energetico e che ci comporterebbe un impatto nazionale per i prossimi 50 anni, quindi noi i nostri figli pagheremo una cosa che non serve assolutamente a nessuno se non alla slam per un guadagno immediato, neanche a dunque termine perché il gas non serve più e lo dicono anche gli studi degli stessi produttori di gas. Abbiamo fauna e flora da tutelare, in particolare anche la fauna è a rischio, si parlava dell'orso ma non solo. Sì, sul caso specifico della centrale di compressione di Sulmona a Cassepende, quella è una zona che come risulta da studi scientifici portati avanti dai parchi nazionali e delle riserve, è una zona di foraggiamento e di collegamento per l'orso marsicano, specie di altissimo rischio, certo l'orso marsicano che attraversa quella zona è un'attrattiva per il turismo, una centrale di compressione messa lì, in zona tra l'altro altamente sismica, è un problema e un grosso rischio per tutti i cittadini. La Regione fino a poco tempo fa è stata con noi sempre in questa battaglia, le forze locali sono sempre contrarie, l'attuale Regione non si è ancora chiaramente pronunciata, secondo noi dovrebbe pronunciarsi con maggiore chiarezza contro.